La seduta è ripresa. L'ordine del giorno recca informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli esiti del Consiglio europeo. Ricordo che in corso la diretta televisiva con la RAI ha la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professor Conte. Grazie. Per cortesia, un po' di rispetto per tutti. Gentile Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori.